Buonasera amici sportivi, grazie e ben ritrovati a tutti voi che ci seguite con tanto affetto. Siamo alla ventottesima puntata stagionale di A Tempo di Atletica, puntata nell'alternarsi con il campo Coni Moreno Martini, questa sera che realizziamo in studio con due collegamenti. Nella prima parte spazio come sempre all'Atletica Virtus Ducca, la vedete già collegata alla destra dei vostri teleschermi, da Varga, un'atleta della Virtus Ducca, una giovane mezzofondista, Clarice Gigli. Buonasera Clarice. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. molto giovane, che se non sbaglio sei, di che anno sei nata? Quanti anni hai? 2001, ho vent'anni. Vent'anni, quindi categoria promesse, giusto? Sì, al primo anno. Senti, come è che hai cominciato a fare atletica? Tu che sei di Barga, immagino, grazie ad alcuni tecnici veramente preparati che avete lì a Barga, forse sia stato più facile rispetto ad altri paesi, ad altre realtà. Raccontaci un po' come è iniziata la tua avventura nel mondo dell'atletica leggera. Sì, ho cominciato alle medie perché appunto Luigi Cosimini, essendo professore, mi ha fatto appassionare. E niente, all'inizio diciamo era più un gioco, uno svago per trovare amici, insomma divertirsi e poi invece mi sono appassionata anch'io e niente. Da quando è che è diventata, non che prima non lo fosse, perché comunque quando uno fa sport, anche se lo fa a livello non agonistico e amatoriale, deve essere sempre una cosa seria. E mi raccomando sempre a tutti, soprattutto quando cominciate, non vogliate subito essere i grandi campioni perché ci vuole del tempo e ci vuole il talento. Però da quando è che è cominciata ad essere per te una cosa anche seria, nel senso che insomma legare l'aspetto agonistico e i risultati? Verso i 16, 17 anni, quando ho cominciato a insomma essere allieva. Tu sei una mezzofondista, quali sono le tue distanze di riferimento? Ma la mia distanza preferita sono gli 800 e poi gareggio anche per i 400 e nei 1500. Ho capito. Senti, prima dell'atletica e prima delle medie, prima del professor Luigi Cosimini, che salutiamo al pari del professor Bertoli, avevi praticato altri sport oppure nella tua carriera sportiva c'è solo l'atletica? C'è solo l'atletica, avevo fatto un po' di danza da piccola, ma nulla di serio. Ecco, la tua distanza preferita, hai detto alla fine comunque sono gli 800, nel fine settimana, di cui adesso poi parleremo, in cui la Virtus ha gareggiato davvero su molti fronti alla ricerca del punteggio, sia per la squadra maschile ma anche per la squadra femminile, ovvero quella di cui fai parte, dicevo hai gareggiato in due gare distinte, ci vuoi raccontare com'è andata e dove hai gareggiato? Sì, ho gareggiato a Livorno nei 400 metri, dove ho fatto il personale e sono arrivato a seconda, e poi abbiamo gareggiato ad Arezzo domenica, ho fatto la prima fazione della 4x400 e anche lì abbiamo avuto un secondo posto. Ecco, nella gara individuale quanto hai fatto, visto che ci hai detto ho stabilito il mio personale, di quanto ti sei migliorata? Beh, quando uno si migliora credo può essere sempre soddisfatto, no? In qualche modo. Sì, sì, mi sono migliorata ad un secondo e mezzo e ho fatto 1,00 e 97. Un secondo e mezzo non è poco, quindi possiamo dire che sui 400 il prossimo obiettivo può essere quello, quale può essere? Sugli 800 di fare il minimo per gli italiani. No, ma ora dicevo sui 400, il minuto netto e qualcosa l'hai fatto immagino sui 400. Sì, 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 sui 400 e sui 4 l'obiettivo era quello, insomma, di fare una sorta di test per poi riuscire meglio negli 800. Comunque ormai non sei neanche molto lontana dallo scendere sotto il minuto, che in prospettiva 800 potrebbe essere un bel tempo. 800 campionati italiani che vuol dire? Che tempo devi fare? Quando lo devi fare? Come lo devi fare? 2,19 entro fine maggio. E ora come ora che tempo avresti sugli 800? Che non me lo ricordo, ovviamente. Ciao, ciao. Clarice, mi senti? Clarice mi senti? Sì, dovevo essere saltata la connessione e non ho sentito. No, dicevo, attualmente sugli 800 ci hai detto che dovresti fare 2,19, il minimo, no? Attualmente che tempo hai? Sei lontana dal 2,19, no? 2,19. Ah, mancano diversi secondi, mi sembra di capire. Senti, ti segue il professore Cosimini? Quante volte la settimana ti alleni? Dove ti alleni? Vieni mai a Lucca? Come funziona la tua preparazione nell'arco, diciamo, della settimana tipo? Ma io mi alleno 5 volte a settimana, nelle settimane delle gare, mentre 6 nelle settimane normali e mi alleno su a Barga sempre, quindi diciamo, insomma, in un ambiente che magari non presenta le infrastrutture giuste, però insomma, ci riusciamo sempre ad allenare. Beh, ora quando potrà, immagino che appena sarà pronto, manca più, davvero manca più poco, insomma, qualche capatina al campo con i Moreno Martini, visto come sta nascendo questo nuovo impianto ristrutturato, converrà anche farla forse, anche se da Barga a Lucca non è proprio comodissimo, no? Né, non è proprio comodissimo, sì. Ho capito. Senti una cosa, hai gareggiato anche indoor all'inizio del 2021, sei stata ai campionati di Ancona, ai campionati italiani indoor di Ancona. Sì. Eh, lì com'è andata? Lì mi sono piazzata dodicesima e ho fatto 2,24 e il 17, quindi sono andata molto vicino al mio personale e ero molto soddisfatta. Quindi buone, tutto sommato, buone, buone prospettive. Senti, ti chiedo di darmi una tua valutazione sulla squadra femminile della Virtus che i dirigenti hanno ricostituito tre anni fa e che mi pare anche piuttosto ambiziosa, no? ha visto anche gli ultimi arrivi, come la vedi? Ma secondo me possiamo avere un buon potenziale, via, perché ci sono molte atlete di un certo livello. Senti, la tua amica idea Pieroni, la vedi mai? Come sta? Sta bene, sta bene. Ora ultimamente non l'ho vista però, insomma. Eh sì, da lei lo sai che insomma ci aspettiamo tutti, poi forse lo sai qual è il problema, forse anche troppo e questo alla fine anche nella mente di un atleta quando sa che c'è tanta attesa può anche incidere, ma credo che lei sia talmente forte per cui insomma adesso che ha vissuto un periodo un po' così con qualche risultato forse non sempre all'altezza delle sue potenzialità saprà tornare. Dobbiamo, Clarice, prima di tornare a te fare velocemente vedere qualcosa di questo Roberto Orlando che è un atleta come sai della Virtus, è un atleta importante della Virtus, in questo momento credo davvero sia diventato uno degli atleti di punta, che nel fine settimana era impegnato a Spalato, qui parliamo di una competizione a livello internazionale, la Coppa Europa, ebbene Roberto Orlando, questo è il lancio che gli ha consentito con 77,05 non solo di stabilire il proprio primato personale, lui difendeva, rappresentava l'Italia in questa Coppa Europa di lanci, ma anche di chiudere al secondo posto che parlando di una competizione continentale insomma è sempre, mi sembra, di poter dire risultato significativo. Allora Matteo, mentre qui lui aspetta la misurazione di 77,05, dovremmo avere anche questi 50 secondi di Roberto Orlando raccolti proprio subito dopo la gara, dove lui naturalmente, ma sentiamolo dai, non anticipo nulla. Allora, grande Roberto Orlando, prima gara, personale, 77? E' 0,5. Ok, grande, punti importanti per la squadra, per l'Italia, nuovo record, Toscano assoluto, un entusiasmo da tutti i dirigenti della Virtus Luca che mi hanno appena chiamato, ti fanno i complimenti, e cosa vuoi dire a loro? Beh, sono molto contento, la gara è stata molto bella, il tempo qua è bellissimo, l'ambiente è bellissimo, e personale al primo lancio, personale all'ultimo lancio, non è un caso, arriveranno altre misure importanti, sono sicuro. Bene, perciò anche in vista a CDS un ottimo risultato per la Virtus? Sicuramente. Perché vale come punteggio? Esatto. Perciò forza Virtus? Forza Virtus sempre. E soprattutto anche un grazie al tuo allenatore personale. Grazie a Delio Cannalonga, grazie al DT Matteo Martinelli che è sempre presente, grazie a tutti. Vi ricordo che questo ragazzo è di Salerno, questo conferma, è Clarice, conferma la bontà di questa società, di questa Virtus Luca, che è una grande famiglia alla fine, risultati come quelli di Roberto Orlando, per non parlare poi di Marcel Jacobs che è passato da noi e che insomma è sempre legatissimo ai colori della Virtus, sono di stimolo, penso, anche per atlete giovani come te. Sì, certo, indubbiamente. Senti, quali sono i tuoi impegni per questo 2021, quelli più importanti, proprio a livello di scadenza temporale? Le date su cui fa riferimento Clarice Gigli in questo momento? Ma per ora non c'è ancora nulla di deciso e bisogna un po' vedere come vanno le gali di questo mese. Ecco, l'importante, dici, sarebbe comunque, credo, migliorarsi, soprattutto sugli 800 e provare a andare a questi campionati italiani, ricordiamo, categoria promesse per te, no? Sì. Studi anche, Clarice, oltre a fare atletica, questo non te l'ho ancora chiesto. Sì. Cosa fai? Faccio giurisprudenza. Ah, quindi siamo di fronte ad un futuro avvocato. Eh? Beh, sei appena all'inizio, quindi la strada... No, non so perché, la strada è ancora lunga, mi sembra, no? Sì, sì, esatto. Eh, va bene, però, insomma, dai. Va bene, abbiamo esaurito il tempo, Clarice, a nostra disposizione, come vede, volato Io, rapidamente, è stato un piacere, insomma, conoscerti e soprattutto farti conoscere anche alla platea di a tempo di atletica. Dico solo che, insomma, abbiamo sentito Roberto Orlando, chiaramente ha portato tanti punti, ma tanti punti sono già arrivati. Non abbiamo ancora fatto calcoli, ma sia in campo maschile che in campo femminile, le cose in prospettiva delle rispettive qualificazioni. Per i maschi la finale oro, per voi la finale a bronzo, sono buone. Clarice, grazie, salutaci Varga, salutaci Vinicio e Luigi e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie a te. Bene, abbiamo salutato dunque Clarice Gigli da Varga, atleta della Virtus Ducca. Noi ci fermiamo, una breve pausa. Questa sera non facciamo proprio un giro d'Italia ad ampio raggio, perché, insomma, da Varga andremo in Alta Versilia. A tra poco. Eccoci tornati, seconda parte di A Tempo di Atletica, puntata numero 28. Vado a salutare il secondo ospite di questa serata. Buonasera, Gioele Alari. Buonasera, Gioele. Buonasera. Buonasera. Gioele ci risponde da Ripa, per cui ho detto stasera non siamo andati, ci è capitato in questo ciclo di A Tempo di Atletica, di spaziare dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, quindi veramente abbiamo fatto tutto lo stivale. Ripa di Seravezza, Gioele sorridente, perché tra l'altro, e io di questo ne vorrei parlare subito, Gioele, prima che poi ci racconti di te, come è cominciato, no? Gioele del gruppo podistico Parco Alpiapuane, team ecoverde del presidentissimo Graziano Poli, Gioele, sei stato molto bravo, perché a Livorno hai corso i 3.000 siepi, che poi sono la tua specialità, i 9.38, che vuol dire anche il minimo per i campionati italiani. Esatto, sì, sono molto contento e cercavo questa gara dall'inizio della stagione e finalmente, ora che ho fatto il minimo, sono più tranquillo e mi posso allenare meglio per fare ancora un tempo migliore. Cioè, che sensazione hai avuto, al di là che hai fatto il personale, seppur di pochi centesimi, ma le sensazioni che poi ha un atleta, alla fine, mentre vediamo anche alcune belle foto di questi 3.000 siepi di Livorno, alla fine le sensazioni che ha un atleta sono quelle che contano, no? Tu come ti sei sentito? Cioè, di poter fare ancora meglio, molto meglio, di essere al limite? Come hai sentito questi 3.000 siepi? No, allora, in realtà li ho impostati un po' maluccio, perché ho fatto il primo chilometro un po' troppo forte. Ecco. Questo però da una parte mi consola, perché magari con una gara preparata meglio vuol dire che posso scendere ancora come tempo. Quindi dovevi, mi stai dicendo, dovresti distribuire un po' meglio. Questa che è una specialità, come sai, Gioele, ne abbiamo parlato altre volte, molto bella, tra le più tecniche, perché poi c'è da superare le barriere, c'è da superare la famosa riviera, tra le più tecniche e tra quelle, lo sai, anche se hai 20 anni, stasera abbiamo avuto due ventenni, quindi in due fanno due terzi della mia età, pensate un po'. No, dicevo, è una specialità questa, è una distanza che ci ha dato grandissime soddisfazioni, lo sai, nella storia dell'atletica leggera italiana. Certo. Senti una cosa, allora, mi dici che qui, da due anni sei al gruppo podistico Parco, Alpiapuane, come arrivi al Parco Alpiapuane, grazie a chi, tramite cosa? Allora, io ho iniziato a correre circa 6-7 anni fa, prima giocavo a pallone, però mi piaceva correre, andavo a correre anche per strada, qui per il mio paesino, Ripa, e qui c'è la manifestazione ogni anno della staffetta delle contrade. Giusto. E diciamo che l'allenatore della mia contrada mi aveva notato e venne appunto a casa mia a chiedermi di persona se volevo iniziare a correre. E quindi da lì mi iniziai a allenare anche per l'atletica e me ne appassionai ancora di più. E mi iscrissi all'atletica Pietrasanta Versilia, che è il campo podistico più vicino a casa. E da lì, dopo qualche anno, passai all'atletica Alta Toscana e infine ad arrivare a Graziano, dove mi trovo veramente bene. Vabbè, su questo non ho dubbi. Senti, tu sei un mezzofondista che insomma, ora abbiamo parlato dei 3.000 siepi, sai che la pista poi, come sempre, ha un suo fascino, ma per te so che ha anche un grande fascino pure la corsa campestre e anche le distanze più lunghe, tipo i 5.000. Sì, le campestre veramente mi danno quella soddisfazione quando le corro, perché c'è quella cattiveria, quello sporco, che mi fa sentire proprio l'atleta. Prima di cominciare a correre, però, mi dicono che eri molto bravo anche in un altro sport e ti sei tolto anche delle belle soddisfazioni. Sì, io praticavo nuoto, l'ho fatto per tanti anni, è stato il mio primo sport che mi ha formato e sono stato campione provinciale di Lucca per due anni di fila, nei 200 dorso. Ah, nel dorso proprio ti trovavi a tuo agio, ho capito. Hai giocato anche a calcio, però immagino che ti piaceva talmente correre, come funzionava? Che ti scordavi il pallone da tanto che ti piaceva? O eri bravo anche a calcio? Fammi capire. Allora, a calcio diciamo che lo facevo più perché lo facevano anche i miei compagni di classe, ma non ero portatissimo. e poi ovviamente da atleta giocavo come tersino e correvo, correvo tanto, però il pallone lo lascia un po' stare. Ecco, quindi non è che ti scordavi, diciamo che lo vedevi poco il pallone, mi sembra di capire. Lo vedevo poco. Senti una cosa, hai 20 anni, non so se stai finendo le scuole superiori o se c'hai all'università, faccio un po' capire. Sì, allora, purtroppo sono bocciato un anno. Eh beh, capita, Gioele, ci mancherebbe altro. Eh vabbè. Quindi quest'anno però finalmente sono in quinta, mi sto preparando bene per l'esame di maturità e quindi sono tranquillo. Quale scuola frequenti e dove? Frequento l'istituto Franco Manetti a Via Reggio e seguo l'indirizzo scientifico sportivo. Senti, riesci a combinare bene, diciamo, anche perché, insomma, avendo l'esame quest'anno di maturità è un anno anche ancora più importante forse rispetto ad altri, riesci comunque a conciliare bene lo studio, soprattutto in questo periodo, perché ora non so quando c'è l'esame, ma siamo quasi a metà maggio, penso che insomma sarà questione di poche settimane, e l'attività sportiva, gli allenamenti, riesci a conciliare bene le due cose? Allora, in realtà sì, perché cerco di impegnarmi il più possibile la mattina a scuola e il pomeriggio magari studio quell'oretta o due e poi arriva il momento dell'allenamento che mi rilassa in realtà e mi fa sbagliare un po' dallo studio, quindi sì, riesco abbastanza bene. Ecco, a scuola adesso, Gioele, andate immagino in presenza, no? O c'è stato un periodo che andavate a distanza? Sì, sì, per fortuna. No, ma sai, io credo che sia stato un periodo molto difficile per tutti e soprattutto perché poi a scuola, inutile dirlo, si cimentano amicizie e penso che insomma ognuno a casa sua collegati col computer non penso che sia proprio la stessa cosa. No, assolutamente, molto noioso. Senti, quali sono i tuoi prossimi, al di là dell'esame di maturità, che credo in questo momento sia l'appuntamento più importante, ma tornando all'atletica, gli appuntamenti più importanti che verranno nei prossimi mesi? Penso a cominciare dal campionato italiano dove ti sei qualificato, no? Esatto, il campionato italiano è il primo e magari sempre i campionati italiani ora se riuscissi a fare un bel 3.000 per prendere il minimo anche lì, magari oltre i 3.000 si è più fare anche un 3.000 piano sarebbe divertente. E poi in futuro sempre correre per campionati italiani però con più competizione perché alla fine quest'anno è il primo anno promessa e posso fare in una maniera mentre magari il prossimo anno dove sono il secondo anno promessa la posso anche puntare a un eventuale podio. No, no, ma mi sembra di capire che tra le sensazioni di cui dicevo prima la tua sensazione dentro di te sai di poter migliorare e anche molto, mi pare di capire, non so se ho intuito male. Sì, sì, certo, ho quella mentalità da lì. Senti, meglio 3.000 metri, quelli piani, chiaramente quando si dice 3.000 si intende senza gli ostacoli o meglio 3.000 siepi, qual è che ti intriga di più? Ah no, con le siepi mi diverso di più. Con le siepi, beh, ti dicevo prima quando si parla di siepi in Italia per rimanere vicini e lo salutiamo perché sappiamo che è un amico di Noi TV è un grande amico anche del presidente Graziano un grandissimo, Alessandro Lambruschini di Fucecchio è stato uno che veramente ha prima di lui panetta prima ancora di lui ce ne sono stati altri scartezini, Franco Fava che poi è diventato un valoroso e valido giornalista come sai insomma la tradizione è grande quindi gli esempi in Italia ne abbiamo avuti tanti io mi auguro, intanto ti ringrazio di essere stato con noi e mi auguro davvero che il tuo futuro a cominciare dall'11 al 13 giugno che siano solo i 3.000 siepi o siano anche i 3.000 tu possa migliorarti e poi in futuro cogliere tante belle soddisfazioni ti ringrazio molto della tua presenza stasera grazie a te altrettanto grazie e buona serata grazie a me grazie a me buona serata grazie bene e quindi mi viene da pensare caro Matteo Pedini prima di chiudere che tra Clarice Cigli e Gioele Alari in due fanno 40 anni e come ho detto sono meno di due terzi della mia età pensate un po' vabbè no a parte tutto noi ringrazio Matteo Pedini di nuovo per il supporto tecnico ci ritroviamo con A Tempo di Atletica martedì prossimo che ne avremo 18 di maggio e sarà la terz'ultima puntata perché noi poi rifaremo ancora una puntata qui in studio e il primo giugno vorremmo chiudere veramente alla grande con la puntata al campo Moreno Martini dove i lavori vanno avanti anche se in questi giorni purtroppo la pioggia forse li sta un po' rallentando una bella puntatona finale dal Moreno Martini è tutto per questa sera dopo di noi Carpe Diem con Silvia Toniolo grazie a tutti e buonasera grazie a tutti Grazie a tutti.